Dal 17 al 21 luglio torna a Pianella il Convivium Artis 2019 dell'Accademia Teatrale Arotron, il Festival dell'Arte dedicato a cinque serate incentrate su teatro, musica, cinema, doppiaggio, letteratura e televisione. Organizzato da Arotron Eventi e dall'Accademia Teatrale Arotron, il Convivium Artis 2019 è patrocinato dal Comune di Pianella, dalla provincia di Pescara e dalla Presidenza del Consiglio regionale della Regione Abruzzo. A fornire qualche anticipazione delle cinque serate del programma del Convivium consultabile sul sito di Arotron, sono Riccardo Pellegrini e Chiara Colangelo, attori dell'Accademia Teatrale Arotron. Tutte le serate saranno articolate in due momenti separati e in posti separati. Ci saranno degli spettacoli in prima serata alle 21 e poi un post-spettacolo. Gli spettacoli vedranno dei protagonisti abbastanza d'eccezione, molto importanti nel panorama sia teatrale che musicale italiano. La prima sera ci sarà la cantante e attrice Tosca che porterà uno spettacolo concerto che si chiama Appunti musicali dal mondo. Questo è il 17 luglio. Il 18 luglio invece Mario Perrotta con uno spettacolo che è Emigrati Express. La terza sera un regista e attore abruzzese che è Edoardo Oliva che porterà a Caprò. Poi Antonio Rezza che interagirà nell'habitat dell'artista Flavia Mastrella con una performance chiamata Io. E poi l'ultima sera, il 21, ci saremo noi della Compagnia dell'Aratro con Franco Mannella in scena e Mario Massari che è un attore e regista abruzzese con i sei personaggi in cerca d'autore. Disperatamente tratto dai sei personaggi di Pirandello in cui avremo anche l'audacia di aggiungere forse un ulteriore piano di lettura del classico, del teatro nel teatro. Quindi queste le cinque serate principali. Il Convivium nasce come festival e ha lo scopo di portare l'arte, la cultura e il teatro in un piccolo paese come Pianella, nella provincia, per rivitalizzare queste zone che rischiano di essere dimenticate dalla cultura ufficiale ma che in realtà sono molto vive. Quest'anno si ripete l'esperienza del baratto e insieme al baratto ci saranno spettacoli a pagamento iniziali con prezzi molto popolari. E poi si continua la serata con il baratto, quindi la solita formula dell'anno scorso, e con gli artisti stessi degli spettacoli che resteranno con noi per interagire con il pubblico.